Un saluto a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati con una nuova edizione del nostro magazine. Saranno riattivate le 40 telecamere per la videosorveglianza ad Alessandria. Sarà intensificata la presenza della Polizia Municipale con un semipresidio che poi diventerà stabile in piazzale Berlinguer e ai giardini pubblici. Infine gli automobilisti Alessandrini l'anno scorso si sono fatti multare per 45 mila volte. Ci racconta tutto nei dettagli De De Vinci. Sono stati il comandante vicario della Polizia Municipale di Alessandria Alberto Bassani e il sindaco Gianfranco Cutti Cadere Vigliasco a presentare i risultati dell'attività dell'anno passato ed anche gli interventi e le iniziative in programma da portare a termine entro questo 2018 per la Polizia Municipale. In sintesi multe, parcheggi in sicurezza, prevenzione, anche attraverso l'adeguamento della tecnologia, le telecamere e i centralini telefonici per il contatto con i cittadini. A breve ci sarà anche la sostituzione della centrale operativa telefonica con un risponditore automatico, un registratore delle telefonate, quindi questo sarà nelle prossime settimane il primo intervento di cui andremo certamente a fare. Nell'attività svolta nell'anno passato, a dire il vero, è sempre quella montagna di multe per divieto di sosta ad attirare l'attenzione. Poi con tutte le altre infrazioni nel totale ne sono state elevate 45.000 di multe, ben 9.000 in più rispetto all'anno prima. Tra l'altro da segnalare che il solo semaforo di via Marengo, che è fotografo a chi passa con rosso, con una telecamera che si chiama Vista Red, ne ha rilevate oltre 3.400. Tradotto in soldoni sono circa 3.200.000 euro. Sul fronte della sicurezza e dell'ordine pubblico c'è sempre piazzale Berlinguer, quello di fronte al pronto soccorso dell'ospedale. Da decine d'anni si tenta di trovare una soluzione per questioni di proprietà e competenza. Adesso l'accordo con l'ospedale c'è. Nel frattempo sarà intensificata la presenza dei vigili con una sorta di semipresidio. Entro l'anno si arriverà invece a migliorare l'illuminazione e a mettere delle telecamere e allestire un vero e proprio presidio della Polizia Municipale. Contemporaneamente se ne farà nascere un altro ai giardini pubblici nell'ex costruzione dell'acquedotto municipale. Anche quello era già nei progetti di parecchi anni fa annunciato e mai allestito. Quest'anno si farà davvero, lo ha detto il comandante Bassani, dichiarando mi è stato chiesto di realizzarlo entro l'anno e cercherò di rispettare la scadenza. Altro punto importante per la sicurezza e la prevenzione è il controllo della città attraverso le telecamere. Il sindaco Cutica di Revigliasco ha dichiarato che il momento funzionante ne sono rimaste 16 o 17. Poi aggiunge che si sta lavorando per tornare ad averne almeno 40 funzionanti per garantire un vero servizio di videosorveglianza. Ci sono da tenere comunque in considerazione anche gli occhi delle altre 5 telecamere di AMAG Ambiente che rilevano gli scarichi abusivi di rifiuti e le altre due di AMAG Reti Idriche che sono posizionate sul ponte Meier per monitorare il Tanaro. Poi il sindaco ha parlato anche della pattuglia in bicicletta, Bike Patrol Alessandrini. Ottimi risultati grazie alla rapidità di intervento e alla presenza sul territorio che infonde maggior senso di sicurezza. Altre città sono interessate a questo esperimento pilota di Alessandria e anche in questura si sta pensando di dare vita a una pattuglia di poliziotti in bicicletta. Ora ci spostiamo a Casale Monferrato perché continua la sua lotta per ripulire completamente tutte le aree dall'amianto di battuti e sottotetti. Terminate le progettazioni relative alle bonifiche dei siti privati che sorgono nel territorio del SIN, vale a dire del sito di interesse nazionale che raggruppa 48 comuni, i tecnici hanno individuato 176 aree sulle quali si dovrà intervenire. Si tratta di un grande traguardo, come hanno spiegato dal comune, per la deamiantizzazione di tutto il territorio. Un lavoro indirizzato alla bonifica di quella che è ritenuta la fibra più pericolosa, vale a dire quella friabile. Presentato l'ottaviario della Madonna della Salve, patrona di Alessandria. Il simulacro resterà esposto fino al prossimo 6 di maggio, in occasione del compleanno della città. Visibile a tutti per la prima volta anche preziosi cimelli della cattedrale. Per noi Emma Camagna. Sabato mattina il simulacro della Madonna della Salve, patrona di Alessandria, sarà esposto al culto dei fedeli davanti all'altà maggiore della cattedrale dove per tutta la settimana si susseguono funzioni religiose mattino, pomeriggio e sera. Domenica 22 aprile il simulacro sarà portato in processione per le vie del centro e al termine, anziché ritornare nella sua cappella, rimarrà esposto ai fedeli fino al 6 di maggio. Qual è il motivo? Lo spiega il nostro Pescovo Guido Gallese. Il motivo è che quest'anno facciamo gli 850 anni della fondazione della città di Alessandria e per onorare questo particolare compleanno della città, d'accordo con l'amministrazione comunale, con il sindaco, abbiamo pensato di lasciare tra noi la Madonna alla regenerazione pubblica nella cattedrale fino al compimento dei festeggiamenti di questo compleanno. Proprio così per dare un segno del legame tra la Madonna della Salve e la città di Alessandria e per solennizzare in qualche modo questa occasione particolare. Al parroco della cattedrale, Monsignor Gianni Torigi, ha il compito di illustrarci l'importanza e il perché della presenza di queste opere in cattedrale. Innanzitutto presento questa stampa del 1878 che rappresenta San Pietro sulle mure della città che esorta gli Alessandrini ad allontanare dalla città a scacciare il Barbarossa che la stava assediando. È una stampa unica, molto bella. Poi abbiamo quello che è chiamato il calice di Napoleone, calice con ampolline e patena. È stato donato alla chiesa cattedrale da Napoleone III. Poi la reliquia della Santa Croce. La parte interna è stata portata in città da un crociato che l'ha prelevata da Costantinopoli durante il sacco di Costantinopoli. E poi la lampada votiva donata dal comune, dalla comunità alessandrina alla cattedrale come voto perché la città era stata liberata dalla peste. E poi due preziosi documenti conservati nell'archivio capitolare della nostra cattedrale. Cambiamo argomento e parliamo ora dei cambiamenti climatici degli ultimi decenni che sono una concausa di anomalie nella fauna e nella flora. L'invasione di piante e di insetti dannose sono alcune delle conseguenze anche in Piemonte. Il servizio di Fabrizio Mattano. Torna con la primavera in tutta Italia ma diffusamente in Liguria e Piemonte l'allarme processionaria del pino, un insetto infestante le cui larve che si nutrono di foglie, di conifere o di querce possono essere causa di reazioni allergiche e addirittura di shock anafilatici sia per l'uomo che per gli animali, a causa di peli urticanti di cui sono ricoperte. In questo periodo tali lepidotteri discendono dei tronchi e circolano sul terreno come un'improcessione, da qui il nome di processionaria, che comunque non è certo benefica neppure per i sempreverdi, dei quali trae linfa vitale provocandone spesso la morte. Negli anni scorsi, per colpa anche dei cambiamenti climatici, molte zone della riviera Liguria e del basso Piemonte ne erano state colpite fortemente. Addirittura nel 2016 nell'Ovadese la piaga aveva raggiunto livelli di guardia, tanto che il Comune di Ovada aveva costituito una squadra di pronto intervento per far fronte alla richiesta di aiuto dei cittadini e degli agricoltori. È quindi importante per i comuni dare il via per tempo alla disinfestazione, che peraltro risulta obbligatoria ai sensi di un decreto ministeriale del 30 ottobre 2007. Si può eseguire tramite l'asportazione meccanica dei rami infestati e successiva distruzione col fuoco, oppure iniettando nel tronco un apposito inseticida, con efficacia da due a tre anni. Molti l'hanno già fatto e per ora il problema pare arginato per quest'anno. I prossimi mesi, con l'aumento delle temperature, comunque daranno un quadro certamente più esoriente della situazione. Ma nella nostra regione le segnalazioni sono andate gradualmente intensificandosi nell'ultimo decennio, interessando particolarmente pinete situate a quote inferiori ai 1200 metri. E se con la processionaria parliamo di animali dannosi, anche alcune piante fanno la loro parte. All'estare preoccupazione, in questo caso, è l'ailanto, un arbusto di origine cinese che si diffonde rapidamente in qualsiasi terreno, minacciando la biodiversità dell'ecosistema, danneggiando inoltre strutture murarie e archeologiche. Un problema molto sentito nella quese, tanto che il comune di Aquiterme sta portando avanti, dallo scorso anno, una campagna di sensibilizzazione, partita dalle scuole della città col progetto Caccia all'ailanto, organizzata con l'associazione Amici dei Musei Aquesi. Ma sono da studio anche metodi per contrastare nella diffusione e non sono rari incontri organizzati con cittadinanza, studenti, associazioni di categoria per cercare soluzioni. L'ultimo, in ordine cronologico, è stato indetto dall'assessorato dell'Ambiente, giovedì 12 aprile, presso l'ex Caimano, con la presenza di relatore di livello. Un ragionamento che parte dalla mappa dettagliata, redata dagli studenti ed esposta nel cortile di Palazzo Levi e col contributo di aziende private. Ad ora ci spostiamo alla sezione Alessandrina dell'Unione Italiana Cecchi e Ipovedenti, che ha ricevuto un'inaspettata visita in sede, quella del docente in pensione Santo Bello, che come sentirete tra poco ha compiuto un grande gesto di beneficenza in memoria della moglie. Lo ha intervistato per noi, Alessandra Della Ca. Una mattinata diversa e piena d'amore qui nella sede dell'Unione Italiana Cecchi e Ipovedenti di Alessandria. Una mattinata che ci porta a conoscere il professor Santo Bello, che è qui accanto a me ed è accanto al presidente dell'UICI, Luigi Astesiano, perché ha fra le mani un libretto degli assegni. Tra poco consegnerà al professore una cifra consistente, a questa associazione, per amore, per amore di un gesto solidale e per amore di sua moglie. Dico subito che faccio questo per volontà espressa nel testamento di mia moglie, professoressa Franca Ricci. Io ho seguito alla lettera tutto ciò che mi ha lasciato in testamento con orgoglio perché ci volevamo molto bene e la vita è quella che è purtroppo. Prof, voi vi siete conosciuti tra i banchi di scuola. Lei insegnante, docente di educazione fisica, sua moglie esperta nelle lingue, è stata insegnante di francese, di materie appunto umanistiche in vari istituti della città, ha concluso la sua carriera al Plana. Avete trascorso una vita insieme e insieme avete deciso di fare del bene. Sì, sicuramente. Noi quando abbiamo fatto il testamento diversi anni fa avevamo già deciso quello che avremmo voluto fare perché non avendo figli, sì ci sono i parenti però mia moglie voleva assolutamente donare a chi ha bisogno, a chi ha necessità tutto ciò che lei intendeva dare. Luigi Astesiano, presidente dell'UIC, questa cospicua donazione andrà ad aiutare dei giovani. Il prof ha detto che questa coppia non ha avuto figli e allora andremo ad aiutare con questi denari una struttura che voi avete, un locale che voi avete in via Spromonte che diventerà una residenza per studenti universitari. Sì, io innanzitutto vorrei ringraziare il professor Bello che ha voluto rispettare la volontà della signora donandosi una grossa cifra che ci dà la possibilità di ristrutturare questo nostro alloggio che abbiamo via Spromonte. L'alloggio di via Spromonte è a un terzo piano senza ascensore, verrà ristrutturato e adeguato a persone con handicap visivo, si darà precedenza a questi studenti, fermo restando la possibilità di accogliere anche altri giovani. Successo al premio letterario nazionale Giuditta 2018 istituito dalla neonata e omonima associazione culturale cittadina. Tantissimi gli applausi alla scrittrice e giornalista Elda Lanza a premio per la carriera. Vediamo. Gli applausi più calorosi sono stati riservati a Elda Lanza, 93 anni in ottobre, prima presentatrice tv, giornalista, scrittrice, opinionista, quando il prefetto Romilda Tapuri le ha consegnato il premio alla carriera nell'ambito del concorso nazionale Giuditta, alla sua prima edizione, istituito dalla neonata omonima associazione culturale assorta in città. Lo si deve a un gruppo di alessandrini che vogliono soprattutto valorizzare il mondo giovanile e femminile. La cerimonia si è svolta in un affollato salone di Palazzo Monferrato, l'ha presentata Luciano Tirelli, hanno parlato il sindaco Cutica di Revigliasco, il prefetto, la presidente di Giuditta Roberta Lombardi, il presidente dell'associazione Alessandrina di Italianistica Gianluigi Ferrari, che con tante altre associazioni, Cluebenti e Sponsor, ha organizzato l'iniziativa, e Luisa Cioni, presidente della giuria. Il premio era riservato a saggi, memorie, biografie scritte da donne. Per la categoria esordienti ha vinto Marta Perego di Milano con La Felicità e a Portata di Trolle. Per una scrittrice già nota è andata grazie a Tili di Roma con il volume Cervelli in Amore. Premio speciale come riconoscimento alla costante attività educativa a Maria Rita Parsi di Roma con Generazione H. Quello per l'impegno e l'attività svolta per il riconoscimento e la valorizzazione della donna del mondo del lavoro è stato appannaggio della giornalista televisiva Tiziana Ferrario. Infine Nicoletta Sipos ne ha ottenuto uno speciale per non dimenticare, con riferimento alle leggi razziali in Italia, e autrice di un romanzo ispirato all'epoca. E c'è tempo fino al 6 maggio per visitare ad Alessandria la mostra evento dedicata al cappello Borsalino. Oltre 160 illustrazioni di altrettanti artisti inviate da tutto il mondo rendono omaggio alla storia di questo brand di fama mondiale. Vediamo. Un cappello tira l'altro. Finisce in mostra a Palazzo Cuttica ad Alessandria, hashtag Save Borsalino, la mobilitazione sociale lanciata dal quotidiano La Stampa. La risposta, in attesa di sviluppi sulla vicenda giudiziaria del marchio più famoso al mondo, è culturale e creativa. Un moto del cuore che è stato raccolto da 160 illustratori che hanno reso omaggio a uno dei simboli del Made in Italy, a chiusura, tra l'altro, dei 160 anni della storica manifattura di Spinetta Marengo. La mostra, ad ingresso gratuito, sarà visitabile fino al 6 maggio, da giovedì a domenica, dalle 15 alle 19. Orgoglio nazionale, sono sposte opere da New York a Roma, dall'Iran all'Olanda, passando per Milano, Venezia, Firenze, la Puglia, la Sicilia e la Sardegna. Una mobilitazione senza confini per difendere questo marchio. L'esposizione, realizzata in collaborazione col Comune di Alessandria, è un modo per stare vicini ai dipendenti del cappellificio di Spinetta Marengo ed è un viatico per ricordare ancora una volta a tutti che bisogna riprendersi Alessandria, anche respirando cultura, anche passeggiando per le sale di una mostra che racconta storie e vita dell'operosità del capoluogo di provincia nel mondo. Tra poco la pagina sportiva, non perdetevela con Fabrizio Mattana che ci racconta alcune attività sportive della provincia, dopodiché il meteo. Grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona giornata.